Buon poveriggio ragazze e ragazze, oggi dovevo fare dei saluti che mi avevano chiesto su Instagram un mio grande fan e il suo padre e scusate del ritardo ma sono dovuto andare a fare pure la spesa oggi perciò non ho fatto il tempo, lo sto facendo col telefonino e dovevo registrare un video però prima di registrare il video volevo dare i saluti a queste due persone e se riesco pure un po' di incoraggiamento a tutte le persone che mi seguono e che vedono questo video per chi non è iscritto al mio canale adesso vi voglio dare, qua c'ho scritto che ieri sera devo salutare Marco e Lorenzo Marco è suo padre e Lorenzo è il mio grande fan che dice, mi ha detto, a dire del padre, mi ha detto che dalla mattina alla sera guarda i miei video io sono super felice perché sono qui per questo spero che vi faccia tanta compagnia a questo periodo cruciale della storia e che riesco a confortarvi un po' e purtroppo dobbiamo stare tutti a casa, dobbiamo stare tutti tranquilli e non possiamo fare altrimenti speriamo che stiamo nel picco cruciale speriamo che piano piano riusciremo a uscire da questa brutta situazione e speriamo che riusciremo a fare una vita normale che facciamo prima però per adesso dobbiamo stare a casa dobbiamo stare a casa, io ho visto su facebook certi video che non si devono vedere non di persone malate ma di persone incoscienti persone incoscienti che stanno andando in giro per i paesi a Napoli per esempio c'è voi di Napoli rimanete a casa chi non sta a casa tutti i regoli aperti tutte le persone avete visto la festa di Natale tutte le persone in giro a fare i regali a Napoli a Bari c'è sempre sì da questa irrabbia che non vogliono o che stanno già diretti o che stanno in giro Bari già sono due volte che vedo queste cose così ma a Napoli sembra che stanno hanno fatto un video così un ragazzo di Napoli che diceva dice qua non ci crede nessuno che stiamo a letta così infatti sembrava che era i tempi di Natale c'è tanta gente tanti pacchi tante cose così state a casa perché meno state a casa e più dobbiamo stare a casa noi che non siamo a casa per riuscire a levare questa virus io esco di oggi sono uscita con mascherina per andare dal dottore e dal mio marito che lui è malato aveva finito le medicine e ho fatto una scorta grandissima esco solo quando devo andare a coprire il pane o da mangiare a giorni alimentari o al parificio noi ci stiamo sacrificando a stare qua dentro casa però pure le persone vanno in giro ci fanno stare di più dentro casa da noi perché il virus non va via perché gira perché il virus si attacca che le persone vanno in giro ci sono persone che non ci credono a sta cosa ci sono state tante persone che sono morte dovete stare a casa io vi sto vicino virtualmente con i miei video io spero che vi faccio compagnia però voi state a casa guardate i miei video iscrivetevi al mio canale guardate i video guardate i video vecchi passate il tempo come vi pare abbassa che rimanete a casa fiorellini fiorelline rimanete a casa voi e tutte le persone che vi stanno guardando questo video rimanete a casa a casa lo so che è dura lo so che è brutto lo so che ci siamo rotti quelle che si chiamano ma per forza dobbiamo stare a casa pure io mi sono stufata mi sono rotta a stare a casa mi sono rotta però non si può uscire non si può uscire oggi ho visto quei video mi sono arrabbiata per questa cosa mi sono arrabbiata perché ancora non credono a questa cosa a questa urgenza a questa cosa che abbiamo noi qua loro più vanno in giro e noi che siamo a casa più stiamo dentro casa vi dovete mettere in testa così voi che fate come vi pare non vi importa di noi che stiamo dentro casa per non attaccarci queste malattie la malattia la malattia cammina se vuoi uscire la malattia si il virus si si ferma se non uscire bisogna mettere in testa questa cosa va bene ciao saluto tutti i miei farellini saluto pure ah ma ciuso il libro pure Marco Lorenzo ciao saluto a casa mi raccomando ciao